Queste edizioni, Dalie, le cultive al più belle per la casa e il giardino, scritto da Naomi Slate e illustrato da Giorgiana Lein. Il libro è una rassegna, una carrellata splendida su questo fiore che per un certo periodo di tempo è stato trascurato, ma oggi è tornato alla ribalta, diciamo così, dei gusti delle persone. Il libro si apre con un escurso storico e una serie di note botaniche che ci aiutano a individuare dei diversi tipi di Dalie a seconda delle corolle e del numero di petali e poi si apre, come vedete, la vera e propria carrellata, sono oltre 65 tipi di Dalie illustrate con queste splendide fotografie, tutte in primo piano e descritti da una scheda che racconta un pochettino la storia del fiore e del nome e una scheda tecnica qua in fondo che ne descrive la morfologia e le caratteristiche botaniche. Tutte le Dalie sono divise in quattro macro, diciamo, di capitoli a seconda delle diverse caratteristiche e in fondo al libro, per completezza, c'è un capitolo, guardate che bellezza queste fotografie, che tutte così in primo piano ci fanno proprio apprezzare la bellezza di questi colori e la varietà di queste corolle. Dicevo, in fondo al libro c'è un capitolo dedicato alle norme culturali che ci permetterà quindi, volendo, di abbellire i nostri giardini con questo splendido fiore che poi naturalmente si può recidere e usarlo per decorare i nostri interni. Quindi per Logos Edizioni le Dalie, le cultivar più belle per la casa e per il giardino.